Che dobbiamo fare intanto? Che dobbiamo fare? Essere corretti con le profite e cercare di fare per il minimo che ognuno può, però vuol fare. Insomma, credere? Ma che non credere? Basta che non credere sia dinamico. Molte volte uno che non crede e fa di questo suo non crede una bandiera, una sorta o qualcosa. Ma la realtà vera è poiché l'uomo contemporaneamente non crede e crede. Ma posso dire che non crede? Ah no, crede e non crede. Questa è la risposta.